Un giorno al convento di San Giovanni Rotondo i frati sentirono improvvisamente una musica meravigliosa, davvero fantastica, molto dolce che davvero era davvero celestiale e questa musica proveniva dal corridoio. Naturalmente lì c'era la stanza di padre Pio. Si domandavano fra di loro quindi frati cosa mai fosse quella bellissima musica e padre Agostino si offrì di saperne di più. Si fece coraggio e avanzò nel corridoio e si divesse verso la cella di padre Pio. Bussò ed entrato gli chiese, Piuccio dimmi un po' che cos'è questa musica meravigliosa? Padre Pio appare molto sorpreso di quella domanda e sorrise e disse, mio caro sono le anime del purgatorio che io sono riuscito a mandare in cielo e adesso loro per riconoscenza mi fanno sentire un saccio della bellissima musica celestiale del paradiso. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!